I protocolli dentro le scuole hanno funzionato e si è ben visto che in realtà la scuola non è il luogo di focolai, ma casomai è il luogo dove si intercettano dei casi di positività e quindi si possono prendere immediatamente le misure. Il problema è quello che avviene subito al di fuori dei cancelli della scuola e soprattutto con i trasporti. Va dritta al centro della questione la direttrice dell'ufficio scolastico regionale ad un mese esatto dall'inizio delle lezioni in presenza al tempo del covid. In Veneto i problemi non sono tanto nelle classi quanto fuori, soprattutto con gli assembramenti che si creano nei mezzi pubblici. Sorvegliata speciale al momento è la curva dell'andamento dei contagi. Io credo che molto realisticamente dobbiamo guardare al livello dei contagi e farci anche una previsione, un programma, un piano operativo. Se i contagi arrivano a tot, che cosa facciamo? Se sono ancora di più, cos'altro facciamo? Ecco, manca forse questo aspetto, un po' di programmazione. Le parti sono tutte un po' arroccate sulla propria posizione, tutti assolutamente a scuola e anche questo si può affermare fino a un certo punto. Bisogna vedere qual è la curva dei contagi. La proposta del Veneto al governo avanzata dal presidente della regione Zaia è quella di prevedere la didattica a distanza alternata alle lezioni in classe per gli studenti degli ultimi anni delle superiori, così da alleggerire la pressione sul trasporto pubblico, forma peraltro già contemplata dalle linee guida regionali. Io credo che il valore da preservare più di tutti, proprio per la continuità didattica, per il senso della scuola, sia soprattutto il primo ciclo, quindi la scuola primaria e quella che chiamiamo ancora scuola media. Per la scuola superiore, ovviamente, come ultima ipotesi, spiaggia, situazione, eccetera, eccetera, si può ragionare sulla didattica a distanza. Altra questione calda, quella delle nomine. 15.819 in Veneto le nomine di supplenti, circa il 22% del personale docente. Per fare queste nomine noi abbiamo scorso quasi 150.000 posizioni, quindi veramente un lavoro enorme che ha portato via tantissimo tempo. Le province hanno praticamente tutte finito, salvo Venezia, che ha ancora 600 nomine che però effettuerà nei prossimi due o tre giorni, Grazie a tutti.